Adesso, come ogni mattina, andiamo a cercare anche un libro. C'è qui con noi in studio Andrea Vivian. Buongiorno, benvenuto qui a Sky Sport 24. Parliamo di allenamento respiratorio. Un libro molto completo, in cui in realtà si possono ritrovare molti addetti ai lavori per quanto riguarda lo sport. Chiedo a te di spiegarci di cosa si tratta. Ma è un libro che deriva da sei anni di stesura e di studi, e quindi è stata un'opera un pochettino complessa. E racchiude, diciamo, la prima parte, una parte soprattutto teorica, per poi concentrarsi su un approfondimento e sulla parte pratica. È importante perché è un libro che riguarda un po' tutte le discipline sportive, un po' tutti i target degli sportivi, sia il target amatoriale che soprattutto poi il target dell'atleta ad alto livello. Riguarda degli sport individuali, ma anche gli sport di squadra, dove spesso, ad esempio, la parte del recupero all'interno della partita, se facciamo l'esempio di una partita di caccia o di rugby, la parte del recupero viene spesso tralasciata, quando poi in realtà sono le parti più importanti della partita stessa. Ecco, spiegaci un po' quali sono proprio le fasi e come ci si può allenare, come si può capire come funziona appunto e come allenare la fase di respirazione. Ma il discorso è che prima di allenare, come in tutti i gesti sportivi, è fondamentale apprendere il gesto tecnico corretto, perché valutando diversi atleti anche di alto livello, abbiamo visto che molti di questi atleti non sanno respirare, di conseguenza, purtroppo sì, anche atleti che convivono con la respirazione. Di conseguenza bisogna innanzitutto far capire all'atleta come bisogna respirare e successivamente, una volta che l'atleta ha preso il gesto, puntare l'attenzione sull'allenamento, che poi dovrà essere specifico in relazione alla disciplina svolta dall'atleta. Soltanto per quanto riguarda la disciplina o anche individualmente, per ogni elemento e per ogni individuo deve essere studiato un piano? Sì, chiaramente, certo. Poi se si va ad approfondire ancora di più nello sport attuale, di questa performance esasperata, chiaramente poi il taglio dell'allenamento deve essere portato anche in forma individuale, oltre che sulla disciplina anche sul singolo atleta. E quali sono le discipline in cui è davvero indispensabile riuscire ad avere una respirazione il più corretta possibile? Chiaramente, come dicevi tu, è fondamentale in tutto, però ce n'è uno in particolare o ce ne sono alcuni in particolare? Guarda, gli sport in cui è fondamentale la respirazione soprattutto sono gli sport di resistenza, quindi il ciclismo. Poi più gli sport sono costretti dallo strumento, dall'attrezzo, come può essere la bicicletta, e più l'atleta fa fatica a respirare in maniera corretta. Quindi gli sport di resistenza come il ciclismo, il nuoto, la corsa, l'atletica leggera, quindi discipline soprattutto di endurance, discipline aerobiche. Ma ripeto, spesso la respirazione viene tralasciata anche negli sport di squadra, dove se un atleta riesce a respirare meglio nelle fasi meno concitate della partita, poi chiaramente nel momento dell'azione è più lucido e l'affanno si posticipa. Noi allora ti ringraziamo, ricordiamo ancora una volta allenamento respiratorio. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi.